ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come anna falchi e la rivelazione piccante che lascia tutti senza parole ecco cosa ha dichiarato i dettagli della vicenda una delle attrici tra le più famose del mondo dello spettacolo nata in finlandia ma trasferitasi in italia a soli 16 anni e lei anna falchi nel corso della sua carriera ha recitato in tantissimi film e ha dato prova anche di essere una bravissima conduttrice tanto che oggi è al timone dello show i fatti vostri trasmissione che va in onda a mezzogiorno su rai 2 di recente la donna ha fatto una rivelazione circa i suoi gusti sessuali lasciando senza parole i fan il successo per la donna avviene nel 1989 quando vince il concorso di bellezza miss italia aggiudicandosi anche la fascia di miss cinema che le aprirà le porte nel mondo dello spettacolo inizialmente anna viene scelta in un noto spot diretto da federico fellini e recita in alcuni film che hanno avuto un enorme successo tra i registi e attori con cui anna ha collaborato vi sono carlo vanzini michele soavi dino risi sergio martino e carlo lizzani ma anche paolo villaggio renato pozzetto christian de sica massimo boldi e ezio greggio attualmente conduce il noto show i fatti vostri che sta avendo un buonissimo successo insieme a salvo sottile la rivelazione piccante di anna falchi nonostante la sua carriera così brillante qualche tempo fa la bella anna falchi si è resa protagonista di una rivelazione piccante che lascia senza parole il mondo dello spettacolo ma soprattutto i fan parole che sicuramente sono state dettate dalla sua spontaneità e dal suo essere genuina due elementi che la contraddistinguono da sempre in una intervista di qualche mese fa anna ci ha tenuto a precisare di non trovare un uomo che riesce a stare al suo passo dal 2008 ho avuto più di un calciatore ma sono veloci come quando fanno gol il mio uomo deve essere instancabile tenere i miei ritmi oltre questo ritornata sull'argomento qualche tempo dopo la bellissima attrice conduttrice ha affermato nuovamente il suo pensiero rilasciando un'altra rivelazione davvero hot ecco le sue testuali parole io se mi viene voglia di far l'amore il mio uomo lo porto anche nel bagno del ristorante insomma non si può di certo dire che la bellissima anna falchi non sia un tipo passionale grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video